Cena di presentazione e sostegno Team Juniors Federazione Ciclistica Italiana 2018. Martedì 27 febbraio, ristorante senza nome e dalle ore 20. Un evento aperto a tutti gli appassionati, sportivi e chiunque voglia sostenere i giovani atleti. Con un menu a soltanto 20 euro, il ricavato della serata andrà interamente a sostegno delle attività del Team Juniors Deca Riders Team. Info e prenotazioni presso Deca Sport 0545 45 41 1 Donne in musica, operette danza per celebrare l'8 marzo, sabato 10 marzo ore 21, Sala Vassura, Bagnara di Romagna. L'incasso sarà devoluto all'Istituto Oncologico Romagnolo. Info e prenotazioni Simonetta 348 24 09 985 In vista delle elezioni del 4 marzo, Mondo Balneare, portale di riferimento del settore balneare e cooperativa Spiagge Ravenna che associa tutti i 210 stabilimenti dei nuovi lidi ravennati hanno organizzato il primo confronto politico nazionale sul tema delle spiagge che ha coinvolto i rappresentanti delle principali coalizioni candidate alle urne. Il prossimo Parlamento dovrà necessariamente lavorare ad una riforma delle concessioni dei maniali marittime ad uso turistico ricreativo su cui insistono migliaia di imprese balneari da anni in malia di un vuoto normativo causato dalla direttiva europea Volkestein sulla liberalizzazione dei servizi con il conseguente scenario delle evidenze pubbliche. Al fine dunque di confrontare le posizioni politiche su questa complessa vicenda il dibattito ha coinvolto alcuni dei candidati più competenti in questa materia. In piena parità di condizioni tutti gli esponenti hanno risposto alle medesime domande ed hanno avuto lo stesso tempo a disposizione. Sicuramente la giornata di oggi è una giornata importante che abbiamo voluto organizzare qui nel nostro territorio in collaborazione con Mondo Balneare per cercare appunto di far prendere un impegno per i prossimi mesi alla classe politica appunto che si insiderà in Parlamento. Sono passati dieci anni, questa è la terza campagna elettorale che noi andiamo ad affrontare e ancora il nostro problema non è stato assolutamente risolto. Questo ovviamente ha portato e porta grande incertezza negli imprenditori, negli operatori balneari ma anche ancora di più nel sistema turistico. Penso che non sia assolutamente accettabile poter continuare su questa strada e che nei prossimi sei o otto mesi il nuovo governo dovrà per forza imbastire un percorso risolutivo in merito. Noi in questi anni abbiamo cercato di portare contributi importanti. Sta di fatto che ancora oggi una legge che comunque vada da un lato a recepire i principi europei ma dall'altro canto anche tutelare i giusti diritti delle imprese balneari non è stata fatta. Questo non è accettabile, non è giusto che sia così. Stiamo lavorando tutti insieme e appunto nella giornata di oggi l'obiettivo è quello appunto di riuscire a far sì che i rappresentanti politici prendano un impegno certo che appunto possa portare a una risoluzione del problema. Qui ovviamente c'è stato un po' il gioco della politica, una riforma che poteva avere sicuramente del buono al suo interno ma che aveva troppe incognite. Troppe incognite, non era completa, prevedeva comunque da parte dei balneari per vederci una possibilità di soluzione, un atto di fede, le componenti erano incerte e in più fatta in coda al mandato legislativo ovviamente è diventato un tema da campagna elettorale e quindi tutto quello che c'era di buono all'interno di questa direttiva che c'erano sicuramente degli elementi positivi però non costruita in un modo completo e soprattutto nel momento sbagliato è stato tutto vanificato. Questo con nostro dispiacere ovviamente da un lato e però dall'altro lato deve insegnare poi o deve essere di spunto per la nuova politica che si andrà a insediare a prevedere un percorso che sia completo sin dall'inizio che non si possa prestare a interpretazioni o a polemiche. Il percorso che si decide può essere, ci possono essere diverse possibilità ma deve essere completo dall'inizio alla fine. Pensare di, dopo dieci anni, pretendere che da parte delle imprese ci siano degli atti di fede per vedere la luce in fondo al tunnel diventa veramente difficile e bar impossibile. Sui temi principali, sui temi che contano, sui temi importanti, alla fine le rappresentanze sono poi tutte molto vicine, nelle varie sfaccettature c'era magari chi credeva di più o di meno in questo percorso ma quando è il momento di trovare la soluzione definitiva per i balneari poi si mettono da parte quelle che possono essere le piccole differenze. Il tema è che noi balneari in generale dobbiamo iniziare a chiedere di più alla politica e alle istituzioni. In questi anni abbiamo tante volte collaborato, tante volte siamo stati un po' anche al traino della politica questo non è più possibile, i tempi non ce lo permettono, l'interesse delle nostre imprese e soprattutto del turismo balneare italiano devono prendere un altro percorso e quindi sarà nostro dovere pretendere di più dalle istituzioni a tutti i livelli territoriale, regionale e nazionale. La giornata di oggi è strutturata molto bene, il mondo balneare l'ha organizzata molto bene quindi in assoluta par condicio, 15 domande che vengono fatti a tutti i rappresentanti delle coalizioni dei partiti politici. L'obiettivo appunto è quello, magari ci possono dire anche cose che non ci fanno piacere, questo non è escluso ma si devono prendere un impegno un impegno chiaro che nei prossimi 6-8 mesi quello che ci promettono oggi lo andranno a imbastire. Confronto politico di cui ovviamente c'è bisogno di discutere perché questo tema delle concessioni balneari è un tema strategico fondamentale per lo sviluppo del turismo balneare, noi siamo un paese con oltre 8 mila chilometri di coste, molte delle quali appunto sono state negli anni concessionate appunto agli stabilimenti e sono un elemento fondamentale della nostra offerta turistica, purtroppo non siamo riusciti ancora in questo paese a dare una legislazione che dia certezza agli operatori balneari, in questa legislatura si era riusciti finalmente a mettere in campo un disegno di legge organico che io credo ancorché migliorabile possa dare ancora diciamo certezza agli operatori balneari, purtroppo questo disegno di legge non è arrivato fino in fondo, è stato provato alla Camera ma non al Senato, il mio auspicio, il mio augurio è che qualsiasi sia la forza politica, qualsiasi sia il governo che si occuperà appunto di governare l'Italia nei prossimi anni, non mandi all'aria il lavoro fatto in questi 5 anni appunto dal Parlamento italiano, si possa riprendere quindi il discorso da dove si è interrotto e si possa portare a compimento questo disegno di legge che ripeto magari non è perfetto, può essere migliorato in fase di decreti attuativi, può essere migliorato nella fase di ricepimento delle regioni però introduce alcuni elementi forti di certezza e di garanzia per gli operatori balneari a partire dal valore economico e dal legittimo affidamento. Ecco io mi auguro naturalmente che tutti i candidati che oggi diciamo parleranno di questo tema saranno sottoposti alle domande della stampa, possano dare delle risposte convincenti senza creare illusioni negli stabilimenti balneari di uscite dalla Bolkestein o di proroghe di 90 anni, abbiamo visto che queste promesse sono rimaste tali perché ovviamente non erano fondate sul diritto e sulla legislazione europea, mi auguro invece che si possa ripartire appunto dai principi, dagli elementi che sono stati introdotti nel decreto legge delega che come dicevo prima appunto non è arrivato fino in fondo però ecco ci sono credo e mi auguro le condizioni per riprendere il discorso dove è stato interrotto. Le concessioni degli stabilimenti balneari sono in scadenza il 31 dicembre 2020, l'ultimo governo ha proposto una riforma che si è arenata in Senato e sarà necessariamente la prossima legislatura a doversi occupare di dare una prospettiva oltre questa scadenza, per questo in pieno clima elettorale abbiamo deciso di organizzare un dibattito politico nazionale che renda conto delle posizioni dei rispettivi partiti e che attirerà imprenditori balneari da tutta Italia in modo che sentano le posizioni in campo e poi decidano liberamente chi li convince di più. Le domande saranno cronometrate, uno, due o tre minuti a seconda della complessità della risposta e proprio per dare modo di sentire le posizioni in piena parità di condizioni e questo per noi è fare informazione, non solo scrivere notizie online ma anche creare condizioni per sentire appunto com'è la situazione. I motivi del confronto in seguito alla direttiva europea Bolkestein del 2006 sulla liberalizzazione dei servizi che vorrebbe imporre di istituire le procedure di gara per riassegnare la gestione delle spiagge, migliaia di stabilimenti balneari italiani sono in un grave vuoto normativo. I motivi del confronto in seguito alla direttiva europea Bolkestein del 2006 sulla liberalizzazione dei servizi che vorrebbe imporre di istituire le procedure di gara per riassegnare la gestione delle spiagge, migliaia di stabilimenti balneari italiani sono in un grave vuoto normativo. Nessun governo è finora riuscito a concludere una riforma che restituisca certezza agli attuali imprenditori, i cui titoli scadranno nella 2020. Pertanto sarà il prossimo Parlamento a doversi necessariamente occupare di una nuova legge sulle concessioni demaniali maritime a uso turistico ricreativo. Per questo, prima del voto, gli imprenditori balneari hanno voluto conoscere le posizioni dei vari partiti in lizza che sono emersi nel corso del dibattito. Io credo che non si possa che ripartire da quella che è la legge delega che è stata approvata alla Camera e che poi è stata affossata dalle forze e dalle opposizioni al Senato. Credo che all'interno di quella proposta ci sono tutti gli elementi per dare una risposta definitiva con una legge delega di natura nazionale che consenta di avere la tutela delle imprese, la tutela della professionalità, che consenta di mettere in atto un processo virtuoso di investimenti che in questi anni si sono bloccati perché le due infrazioni che abbiamo avuto a suo tempo e la situazione anche di precarietà che c'è stata in questi anni non ha assolutamente concesso la possibilità di poter investire con serenità da parte delle imprese. Quindi questo è un obiettivo che in via prioritaria noi intendiamo portare avanti. Se sarò rieletto la prima cosa che farò depositerò quella proposta di legge delega che ha avuto i pareri di sette ministeri positivi e nello stesso tempo che è quella che abbiamo modificato con l'apporto anche delle categorie, dell'Anci e delle regioni nel provvedimento che abbiamo approvato alla Camera. Fare nei primi mesi quello che non siamo riusciti a fare per lo strutturismo dell'opposizione negli ultimi giorni della passata legislatura. L'iter del disegno di legge che risolve di riforma del sistema era arrivato al momento finale col voto al Senato, tutto si è bloccato per l'istruzionismo di Forza Italia e della Lega. Nella prossima legislatura occorrerà subito riprendolo in mano per portarlo ad approvazione. È un impegno che al momento si prende e sta dietro a questa annosa vicenda da parecchi anni. Oggi crediamo che tutta l'intera categoria abbia bisogno di certezze e di tempi che sono stati certi. Questo è assolutamente di credibilità. La credibilità che purtroppo la classe politica dal 2010 ad oggi ha lasciato nel malasma più totale l'intera categoria. Noi abbiamo una proposta concreta che si basa su tre pilastri. Uno è un periodo transitorio, quindi si crea un periodo transitorio per le imprese che da oggi verranno traghettate fino alla nuova norma. Dopodiché prevediamo gare, attenzione gare e non aste, che sono due cose molto molto diverse. La gara permetterà legalità, permetterà una partecipazione di tanti soggetti, anche di nuove imprese e noi dobbiamo creare un servizio migliore e garantire anche ai vecchi concessionari delle regole e dei paletti che possano agevolare anche loro. E questo è importante anche definire poi i tempi certi di durata della concessione, che non dovranno più essere portati avanti senza un'altra gara ma devono essere portati avanti con tempi certi. Quindi 15 anni, questa è la durata della concessione. Forza Italia ha messo nero su bianco nel proprio programma un punto che a nostro modo di vedere è assolutamente indefettibile. No alla Bolkenstein. Questo perché innanzitutto non si tratta di servizi ma si tratta di beni. Si tratta di imprese che danno da lavorare e da mangiare a decine di migliaia di famiglie italiane che oggi si trovano esposte all'applicazione della direttiva che invece in Europa non è stata attuata da nessun altro Stato. Pensiamo a Portogallo e Spagna che addirittura presentano una possibilità di proroga di 70 anni e 30 anni. Non vogliamo neanche sentire parlare di regime transitorio perché non si tratta di transitorietà. Si tratta di proroga nella gestione di un bene che innanzitutto, e va sottolineato anche questo, costituiscono i nostri confini nazionali, le nostre coste, che vengono mantenute e curate proprio da quelle attività che oggi noi dobbiamo difendere con un'attività che deve contrastare l'applicazione della direttiva Bolkis anche per noi non può essere cipita in Italia. Un doppio binario che oggi ha già la concessione può continuare e deve continuare anche in ragione degli ammortamenti dei costi sostenuti ad ottenere e godere di questa concessione. Invece laddove si presentano nuove soluzioni siamo disposti anche a ragionare in ottica all'attivazione di evidenze pubbliche che ci lasciano perplessi ma che credevano comunque essere riservate a nuove concessioni che oggi tra l'altro sono ampiamente ipotizzabili visto che il 70% della costa non presenta concessioni presenti. Una soluzione è necessaria anche perché rischiamo che il nostro patrimonio, che tante aziende familiari, una ricchezza del nostro territorio, in particolare della nostra rive romagnola, sparisca, venga venduta all'asta e questo non può accadere. Sono regole dell'Europa che non possiamo accettare in ogni modo. Chi in questo momento non vorrebbe dire di cancellare la normativa a Bolkistan penso sia il primo punto di ogni programma. È un grande vantaggio. Noi come Lega abbiamo già tentato più volte quando avevamo la possibilità di andare a trattare con l'Europa, trattare alla pari, non trattare da succubi come invece ha fatto il PD in questi ultimi anni e quindi bisogna andare a trattare alla pari con l'Europa e cercare di portare a casa la migliore condizione. È inutile fantasticare, bisogna stare con i piedi per terra anche perché abbiamo sulle nostre spalle il peso di tante famiglie, di tante persone, di un indotto che porta in Romagna ma in Italia dove ci sono 7500 km di coste, tanti lavoratori e delle grandi possibilità di lavoro per i più giovani e per tante famiglie. Quindi è importante cancellarla, è importante cancellarla in quale modo? Andando a trattare con l'Europa delle condizioni migliori, delle condizioni dignitose per i nostri balneari e per tutto il settore e l'indotto del balneare. Noi riteniamo che in prospettiva la direttiva Bolkistan sia da superare per i balneari e non solo perché non è possibile sottoporre a concorrenza quelli che sono settori che dovrebbero essere di competenza dello Stato in quanto i beni comuni. Nell'immediato comunque riteniamo che si debba trovare una soluzione che consenta a chi attualmente ha attività imprenditoriali sulla costa di poter continuare ad averle attraverso una proroga dei termini per poi arrivare a gare che garantiscano la qualità e garantiscano che i nostri beni non vengano messi nella disponibilità di soggetti esteri ma rimangono le famiglie che finora li hanno ben gestiti. Sul tempo non decidiamo noi, la prossima legislatura dovrà trovare delle soluzioni rapide anche andando nella direzione segnata da quella precedente che per dei ritardi incomprensibili non è riuscita a trovare una soluzione condivisa.